Musica Buongiorno Duncan, da questa parte Edward! Ehi là Edward! Ho trovato a chi vendere lo zucchero rimasto! Gran bel colpo, devo dire! Vi ha chiamato Edward? Oh, è il mercante che mi ha portato qui. Per sicurezza ho dato un nome falso. Ah, ben fatto. Arrivederci, Bonnet. A presto. Siete puntuali, Duncan. Per di qua. Eccolo qui. L'uomo che templari e assassini bramano da più di 10 anni. Dicono che vi chiamate Roberts. È così? Sapete che cos'è, vero? Stando alle leggende, serve il sangue di un saggio per entrare nell'osservatorio. Abbiamo la chiave. Ci serve solo la posizione. Forse il signor Roberts sarà felice di fornircela. Portatelo alla mia dimora. Tutto questo per un solo uomo. L'osservatorio è davvero così importante? Sì. Sì, sin duda. L'osservatorio è stato costruito dai precursori. Il suo valore è inestimabile. Dai precursori. Dai precursori. Capisco. Non mi piace affatto, Roberts. Siamo esposti. Qualcosa non va. Attanto, gran maestro. Dite bene. Non devono mettere le loro mani sul saggio in nessun caso. Assassini! Lassù! Solo sopra i testi! Sabbia che ne pigeria di me! Nostra la strada di Nicoli, cercate ovuncola. Nostra la strada di Nicoli. Nostra la strada di Nicoli. Nostra la strada di Nicoli. Di Giro. No! Non si vuole! Non mi vuole la terra! Protettiate il sabio! Perfetto! 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 Assassini! Lassù! Sono sopra i desti! Non possiamo dire! Perfetto! Perfetto! Maldita sea! Tengo que nadarme! Perfetto! Non mi vuole il paio. Corre! Perfetto! Grazie a tutti. 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 È insegnita da quell'idiota del re, peraltro. Adios. Quanto a voi, signore Walpole, considero questa la prima tranche di un proficuo investimento. Grazie. Vi ringrazio. Vorrei che... vorrei che... vorrei che presenziaste all'interrogatorio domani. Diciamo a mezzodì. Sì, signore. Grazie a tutti.